e salve ragazzi benvenuti in amica amici tra che mi parla oggi siamo con juve olimpiaco sinale se potesse rendere questi schiccoli le mani ecco sta per iniziare juve olimpiaco intanto c'è di là in cucina il mio padre che sta parlando non potevo iniziare il video con il mio padre che parlava perché se n'era tutto un casino vabbè ci vediamo il calcio di inizio via ragazzi è iniziata la partita iniziata juve olimpiaco madonna stava per stava per fare l'autocollo olimpiaco guarda qua ma ma c'è una tira che ti balla madonna ragazzi l'olimpiaco stava per fare l'autocollo a colpire il palo l'olpio a caccia suoi aiutati ma di tipo di progetti ti capisci ora però la nostra fortina ha rotto l'olpio è un'attività per vedere queste nuove queste mani qua ecco su questo così le staranno bene il portiere non so che mi risulta l'alpio finisce primo tempo 0 a 0 primo tempo di merda il primo tempo era schifo veramente si, il primo tempo era un pillante però io aveva giocato vi vorrei far notare che c'è qualcosa che si nasconde in mezzo ai cuscini ed è lei Maria del Foggi si può sapere che cosa ci fai qui? niente non risponde rispondi vabbè non vuole rispondere non volevo rispondere ti mettiamo qua si sente canzone napoletana Carmen è una parodia vabbè ci vediamo al secondo tempo scusate sono un po' bloccato ci vediamo al secondo tempo è iniziato il secondo tempo di Uolimpia ma secondo me c'è solo un uomo che può risolverla e lui è Gonzalo Higuain papà? questo è il giudizio di mia madre è abbastanza soddisfatto eccolo è entrato il Pipita Higuain stavo dicendo non so se si vede si è bloccato comunque eccolo qui la cosa si vede beh ci dobbiamo che la risolve vero? GH9 GH9 la deve risolvere lui il Pipita Higuain speriamo che la risolve chiudiamo dopo il Pipita Higuain io l'ho detto che l'avrebbe sbloccato l'ho detto che l'avrebbe sbloccato lui e diceva che l'avrebbe fatto niente il Pipita Higuain Higuain per la Juventus contro la squadra greca la palla dietro ovviamente ha spettato beh ma mi si è preso un coppa da scheriglia guarda qua a parte deve segnare ancora lo sport inglese guarda qua con il Barcello che tiene là che tiene con il gollo qua e là tutto un altro discorso guarda come la lasciate sfigare l'Alex che mangi qui guarda po 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 in a me l'abbiamo battuto sto morti di merda mamma mia l'ave parato tutto aveva parato tutto quelle portine mamma mia che cosa il coro per Higuain oh 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 tutti imbazziti in gruppa tutti imbazziti in gruppa tu la meta di portiere che tu hai parato tutto c'è scoccio oh oh eh eh buona zero il Pipita maggiù chi c'è mamma mia che cosa hanno fatto stavo per segnare Di Bale il difensore il difensore ha salvato la palla è arrivata a Maggiuccio che con il piedino l'ha messa dentro il gladiatore il gladiatore Maggiuccio in questo momento l'avevo preso l'avevo preso con la Juve ma purtroppo l'avevo preso la sfida perché benfica come hanno fatto a subire 5 god al basilio mi spiegate con lo scavetto con la testa l'ha messa dentro maggiuncio poi qui di bala piccolo pallonetto come l'aveva fatta al Torino posso fare di difensore può testa di Maggiuccio o coscia solo che vuoi la buttata dentro da vabbè a me c'è testa e parco più di ginocchio testa e ginocchio la palla ma perché di bala braccia semiguaionino non lo so ma di bala i guagini sono ghi per cazzo veramente per schiazzare se si abbraccia e se mi hanno fatto eccolo entra bene al posto di Sturaro comunque 2 a 0 Maritilla Maggiuccio il gladiatore bianconero ovviamente più logica per finire la partita 2 a 0 per la Juve guarda niente il mio padre c'è addormentato attenzione l'interno che attacca l'Olimpia costa la Twidi a confezionare poi il tocco per il compagno finisce qui la partita finisce 2 a 0 per l'Olimpia costa tu ti ria addormentato ti ho fatto vedere quelle che sta vitalmente grande Juve lì c'è Steve Puga dopo la porta la segnata di Guaini se vuoi dire oggi è una segnata di Di Bala ma sta pure per segnare lì c'è la scuspetta perché lì c'è questa cosa che fa la piscina che no comunque secondo me c'è questa cosa che Di Bala fa bene in campionato ma in Champions non c'è proprio di Guaini non fa bene in campionato ma in Champions c'è secondo me è quest'anno no eh l'importante è che se ne puoi che però il primo tempo non è che è stato molto bello il primo tempo il primo tempo è addormentatissimo il primo tempo è stato uno schifo però poi ci sono state alcune occasioni che purtroppo quella merda di portare la parata poi abbiamo vinto lo stesso 2 a 0 con un gol fortunatamente cioè abbiamo fatti fortunatamente facili porta libera pure aspetterò un momento che aspettate che chiudiamo il video eccolo che fenne tra due giorni pure non sa Michele sa Raffaele sa Gambele auguri pure a PR5 da parte anche di Steve eccolo sto giocando anche il mio anno massico perché io mi chiamo Michele eccolo qui tutti quanti bene ragazzi spero che vostri vi piacere come vi iscrivetevi al canale passo per tutto guardate tutti i miei video noi ci vediamo alla prossima ciao ciao